buongiorno buongiorno a tutti ho saputo ho letto grandi nei tempi trombe d'aria eccetera eccetera speriamo che non facciate tanti grandi alle culture gli animali le persone le case sono qui alla farmata come vedete sono qua alla farmata adesso vediamo ho voli di dormire ieri io sono andato a mangiarmi una pizza perché volevo mangiarmi da solo ma purtroppo era piena sono andato a mangiarmi in pizzeria da michele è una pizzeria che pizzeri taglio ma fa anche pizzeri ho pagato grosso si dire delizioso e va altro che veramente stanco volevo dormire ma adesso con questa rita qui apri la finestra è sempre ideale ho dormito spezzettato ma ho dormito io ho fatto il servizio di buon cristiano anche se la gente dice fai del bene ti ritorna del bene ma purtroppo la gente non si ricorda non ti non è le persone che non si ricordano che tu hai fatto io l'ho fatto saluto il maestro candoni maestro cossutta e che dire altro saluto i miei amici bacio per il mondo un bacio saluto i gruppi che faccio parte che ringrazio di cuore che mi accettano i miei video e che dire altro niente saluto i miei colleghi che dice la lista sii saluto tiziano da colizia per primis che mi ha mandato il giorno alle tre di mattina grazie anna ivana e più di altri e l'antonella antonella nardini antonella da massacarrara antonella da cagliari e l'antonella delle ligure questa mia amica mi scrivono nei commenti dopo si mettiamo d'accordo troviamo il modo di commentarsi parlare per dargli la possibilità di trovare la prima claudia e che dirà la monica che oggi dovrebbe chiamarvi a ricordare le dico in diretta boh amici miei bacio 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 ora aspetta la corriere che tra pochi minuti arriva che bella aria fresca un bacione buon lavoro e buone vacanze che in vacanze e buone ferie che hai le ferie alle sceglie beati d'oro io sono qui io sono qua ma gli italiani ommo le spiagge italiane che sono più belle del mondo dai uno dei quattro anche passiamo guardando a giugno dove vengo non vedo il mare ma sono già contento così spero di uscire bene no ma qualcosa di qualche giorno questo dal 10 agosto al 20 agosto spero qualche ora andare al mare prendere aria non mi tuffo ne faccio il bagno ma un abbraccio a baci e che dire altro vuoi dormire un bacio adesso lo dico in portoghese un abbraccio un beijo a todos amigos di gruppo che faccio parte per me è un un abbraccio forte a tutti un abbraccio a tutti a Cleutia e un abbraccio a Sandra Ribiero e a tutti i amici di intervento mio e amici che parlano con me per messaggiare per whatsapp e tutto il mondo un abbraccio a un abbraccio a tutti vi voglio bene vi auguro una buona giornata e buona giornata e buon mare con lì ancora mi raccomando iscrivetevi ciao iscrivetevi mi raccomando iscrivetevi e che dico saluto tutti i cantanti e le persone che seguono il maestro candone e speriamo che un giorno riusci a fare un bellissimo concerto maestro candone in centro per il pianoforte e gli altri della compagna dopo fare un bel concerto suo al bellissimo teatro speriamo che ne pensi il mio sogno baci a presto vi voglio bene bocca buona ricordina ciao